L'intervento della macchinata è il martedì 6 agosto intorno alle 9.30 per i vigili del fuoco di Brea e Rivarolo Canavese. Un Audi Q3 ha preso fuoco in via piccola a Castellamonte. A dare l'allarme è il conducente della vettura che ha allertato immediatamente i soccorsi tramite il 9.12. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Brea e Rivarolo Canavese e i carabinieri di Castellamonte. Non si registrano intossicati o feriti. La stava è rimasta chiusa al traffico e dalla polizia locale per svolgere l'operazione di spedimento e messa in sicurezza del mezzo. Grazie. 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 Grazie.